Cambia volto il Dimeco di Santarita, il quartiere più popoloso di Lanciano, con i lavori per la realizzazione di un campo in erba artificiale di ultima generazione che procedono spediti in linea col cronoprogramma. La ditta CLP Costruzioni di Pomigliano d'Arco, vincitrice dell'appalto di 500.000 euro finanziato con apposito mutuo richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti, conta di consegnare l'opera entro alla prossima primavera e il colpo d'occhio è già d'impatto col manto verde che copre buona parte del rettangolo di gioco. Eseguiti i lavori di scavo per la formazione della rete di scolo delle acque meteoriche, creato un nuovo impianto di irrigazione automatica, si procede a stendere il manto verde costituito da fibre monofilo antiabrasivo resistente ai raggi ultravioletti e al gelo. Già rimessi a nuovo gli spogliatoi, il Dimeco è destinato ad ospitare, ovviamente dopo l'omologazione, le competizioni del campionato FIGC, Lega Nazionale di Lettanti, fino all'eccellenza oltre al settore giovanile e scolastico. Dunque il quartiere Santa Rita si arricchisce di un'altra importante infrastruttura. L'assessore allo sport Davide Caporale. È una soddisfazione enorme quella di vedere, hanno messo già le prime fasce di sintetico, stanno lavorando veramente bene, è un'impresa che io ringrazio per il lavoro che sta facendo. Una cosa che abbiamo voluto fortemente, un impianto sportivo nuovo, un sintetico nuovo, con degli spogliatoi nuovi già omologati e un intervento per dare la possibilità alle tante squadre, alle tante società di calcio di allenarsi su un campo sintetico nuovo. Credo che mancava a Lanciano da tantissimi anni, ci eravamo prefissi nel secondo mandato di questa amministrazione e ci siamo riusciti. I lavori speriamo che saranno finiti nell'arco di 40 giorni, 50 giorni, quindi per far sì che nella primavera si inaugurerà e si potrà fare le prime partite in questa bellissima struttura che ricordo intitolato all'amico Marcello Di Mico.